Musica Ciao a tutti ragazzi Siamo Reppy e Molly E oggi siamo delle formiche Siamo formichine piccoline Avete da mangiare qualcosa Piccoline Allora oggi saremo delle formiche Perché lo scorso video dove eravamo delle formiche Vi è piaciuto tantissimo Questo qui è un nuovo gioco di formiche E speriamo che nessuno ci schiacci E quindi oggi dobbiamo cercare di prendere Più cibo possibile E dobbiamo prendere più anche risorse E dobbiamo ampliare il nostro Sì sì va bene va bene va bene Allora prima di iniziare ragazzi Voi mi raccomando ricordatevi di lasciare subito Un bel like ed iscrivetevi Se non vi siete ancora iscritti In più c'è una novità La vuoi dire Temo? C'è una novità che abbiamo aperto Due nuovi canali ragazzi Uno è Reppy il canale suo Dove fa tantissimi giochi incredibili Che è questo qui vedete Proprio questo E poi l'altro canale di molly Che è questo qua Bella faccia tv Andate ad iscrivervi su tutte e due Mi raccomando contiamo su di voi Iscrivetevi ragazzi mi aspettiamo Allora diventiamo delle formiche Eh posso iniziare io? Eh posso Devo vedere dai Allora siamo qua siamo noi Eccoci Perché io ti devo far vedere prima come si gioca Allora guarda noi siamo qui Va bene Abbiamo Eh ma dobbiamo prendere Calma ti voglio spiegare Guarda quella formica sta portando qualcosa più grosso di lei Oh ecco guarda una formichina piccolina Ecco guarda dobbiamo fare come lei Ok vediamo sta andando qua dentro E poi ti vuoi muovere Ma stavo guardando in giro Ma ti devi muovere guarda Ecco devi prendere quel materiale Buonissimo l'ho preso Hai preso il massimo Adesso mettilo lì No vedi che c'è la franzia lì È un attimo perché mi viene Vai perfetto Ok formica più potente Sì Abbiamo aumentato la potenza della nostra formica Questo cos'è? Eh ne servono dieci per creare quello Devi prendere le altre cose Hai visto? Rotola l'aeroplano È un aereo Caduto Sì però Di là di là Ok ok un attimo Che devo fare qua? Allora ci penso io No no Non ha capito niente di questo gioco Allora ragazzi Vedete siamo nelle formichine Le formichine che cosa fanno? Prendono i materiali E li portano nelle loro tane Ecco fatto Vedi qua mettiamo giù le nostre Hai visto adesso ne abbiamo otto Dobbiamo andarne a prenderne di più E così ne facciamo dieci Quando ne abbiamo fatti dieci Possiamo costruire qualcosa Vedi ho detto di samurai Guarda ti faccio vedere Adesso andiamo qui Ecco qui ne servono dieci Ne servono dieci No Abbiamo creato qualcosa di nuovo Seee Hai visto? Hai fatto tutto verde Ho fatto tutto verde Perché ho comprato delle cose Hai visto guarda Adesso qua Ne servono trentotto Quindi dobbiamo aiutare Con la formichina Una cosa Sì Chi ti ha detto che puoi giocare te? Toccava a me Tu non avevi capito Quindi guarda Guarda sto creando qualcosa di fantastico Ma cos'è che crei lì? Eh guarda Sto creando Non lo so che cosa crei in realtà Però sto portando tutte quelle lì Hai visto? Adesso io farei così Aspetta ma infatti Potenzierei questa cosa No non più forte Mi sono fatta più forte Devi fare che porti più cose Ah ops Vabbè comunque guarda Sono più forte Ok sei più forte Andiamo 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 La formica comunque non capisco che Cosa sta facendo quell'altra E l'altra ci sta aiutando Però l'altra è più gigi Molto piccolina E quindi non riesce a fare tutto Vedi guarda ne mancano 25 Ma cos'è che stai creando? Sto creando Uh ho un'idea Ho un'idea Aspetta Guarda Lasciami fare Allora È un razzo E poi guarda Sta facendo un razzo Sta facendo un razzo Va bene Ok Sta facendo un razzo Ho un'idea Le mettiamo qui E poi ci compriamo un'altra formica Lì 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 Worker Worker Vai Guarda Ancora ancora Un altro Ancora Ancora Un altro Basta Basta Guarda quanti Gli abbiamo presi un sacco Noi siamo i re Delle formiche Guarda quante formichine Che abbiamo adesso Brava Brava Reby È il mio turno Basta Ancora Aspetta Aspetta Guarda Faccio una cosa Dove vai? Faccio una cosa Guarda eh Creo un regno di form Formica Un regno di formiche? Si creo un regno di formiche Guarda quante ne ho eh Guarda No vabbè Reby Worker Worker Anche la velocità Puoi aumentare Guarda vai È il mio turno Ho creato un sacco di amiche formichine Deve solo andare avanti a questo gioco La Reby che dona il cellulare a molli Stranissimo No ma perché mi vado a giocare per ben 4 minuti Ok Guarda Reby eh Adesso aumentiamo la velocità delle nostre formiche Sei pronta? Guarda Più veloci Più veloci Più veloci Più veloci Più veloci Ma sono ancora lente Sono lentissime ste formiche Guarda ci stanno dando una mano incredibile Qua sono delle Sei lento come una formica Sei lento O comunque nei 11 puoi anche prendere qualcos'altro eh Ok io direi che prendiamo una marea di formiche Vai Un altro Un altro Ok Guarda quella quanto è forte Wow Quella si è potenziata Ok vediamo Continuiamo Allora Ma portano sto rosso di qua Eh ma perché si sta creando qualcos'altro Ma te non ti preoccupare Tu crea più formiche Crea più formiche Non lascia fare fara loro Lascio far fara loro Lascio far fara loro lassù Lascio far fara loro Ok 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 vedi Le stanno portando un po' alla volta Tu crea più formiche Oh mamma Reby Guarda breve le formiche Hanno finito di costruire un razzo Vagli a prendere Vagli a prendere dell'altro rosso Vagli a aiutare Allora più veloci Altre formiche Vai 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 Vagli a prendere altro rosso eh Sì sì così Così lo finiamo Ok Abbiamo rotto tutto sto coso eh Vai 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 Vediamo Ok Vediamo Wow Un razzo Ma dove vanno No aspetta No Abbiamo vinto Non ci credo abbiamo superato il livello Ma scusa delle formiche con un razzo dove cavolo vanno adesso Nel prossimo livello no Vediamo Sì guarda qui abbiamo una casa più grossa e delle formiche più grosse Eccole tutte le formiche che avevamo Oh mio dio ma qui c'è ancora da prendere un sacco di roba Un disco volante Guarda Ma siamo su Marte Ma hai visto Ne abbiamo un sacco di amiche formiche adesso Eh Reby c'è un problema Cosa? Qua ci sono un sacco di cose da prendere No dobbiamo fare un sacco Vediamo upgrade 265 Con gli smeraldi addirittura Wow Vai 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 ci servono smeraldi Ok dove li prendiamo qua No Eh Di là di là di là Mamma mia Servono una marea di smeraldi Sì ma qua dobbiamo completare un sacco di cose Mamma mamma ci metteremo una vita Esatto ci metteremo tantissimo ragazzi A completare questo livello Stai tranquilla guarda Ah ci penso No no un attimo Dai tocca a me Voglio Guarda voglio solo capire una cosa Ma sto tocca a me Tocca a me Perché non ho capito come fare gli smeraldi Aspetta guarda Eh lo so io come fare gli smeraldi Qua metto questi No 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 li devi mettere lì E come no E che cavolo ne sai Guarda fidati Scommetti che si vanno così gli smeraldi Posso giocare posso giocare posso giocare posso giocare Ok però guarda Faccio solo questo Eh ne devi mettere 40 Ne metto 40 qui Poi puoi giocare ok No no devo aspettare che ne metti 40 Ti metti un sacco No guarda siamo già 22 Ok adesso andiamo a potenziare No un attimo dai Andiamo a potenziare Guarda sono curioso Non sei curioso anche a te di vedere che cosa c'è qua Secondo me c'è dell'erba in più Ecco l'ho detto C'è dell'erba in più Ok vai Attacca la remecchia Vedi che si facciano così gli smeraldi Vedi Te l'avevo detto Non mi ascolta mai Non possiamo potenziare Vabbè Prendi gli smeraldi Adesso prendo questo Ma devi prendere gli smeraldi Dove lo porto questo coso Non sei una brava formica Ok guarda Ah perché bisogna fare il razzo Uh upgrade Eh ma servono gli smeraldi Andiamo Gli smeraldi li fai lì Li ho creati Andiamo a prendere questi smeraldi Ok muoviti Rebbi muoviti Uh guarda Ecco Io vorrei altre formiche che mi aiutano Io metterei altri smeraldi Eh mi servirebbero altre formiche Eh infatti dovevamo fare più formiche prima Mi servono delle altre formiche Ecco infatti dove si creano formiche? Le formiche si creano con gli smeraldi mi sa No No nella base Nella base No no si creano là le formiche Aspetta E degli smeraldi nella Nella schiena E ho degli smeraldi E dove li metto gli smeraldi? Prendili E li per potenziare Vedi che non sai fare Upgrade Ecco Mi servono Ma dove li appoggio adesso? Ma dove li metti adesso? Dove li metto gli smeraldi? Ah li hai messi nella base Ma dove? Dove li ho messi? Li hai messi nella base Nella base delle formiche Ma perché questa cosa sta raccogliendo cose? Allora io direi che te non sei capace Il mio turno No 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 guarda guarda Sono capace Ok 4 smeraldi potresti potenziare qualcosa adesso Aspetta adesso io direi di crearne altri Vediamo Andiamo 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 Non sei una brava formica Reby Sì sì sono una bravissima formica Guarda Ma Reby stai sbagliando tutto Cosa no sto facendo smeraldi Smeraldi Prendi gli smeraldi già fatti E poi dove li metto? E poi poi potenziare Ne abbiamo già 4 Prendiamo gli smeraldi Vai 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 fai avanti indietro E dove vado? Avanti lì avanti indietro con gli smeraldi Avanti indietro lì Avanti indietro con gli smeraldi Ok va bene Vai 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 smeraldi smeraldi Avanti indietro Avanti indietro Avanti indietro Avanti indietro Ho visto ne ho 10 Ne hai un sacco Puoi potenziare le formiche E farne di più? Vai Vai prova upgrade Io direi di potenziare Vai sull'upgrade prima Eh all'upgrade è di qua Vediamo? E vediamo cosa possiamo fare Capacità, velocità e prezzo Capacità Capacità Ok le formiche adesso possono portare di più Oppure noi Anche più veloce andiamo Noi siamo Siamo noi? Mi sa di sì E le altre formichine scusa? Sì siamo noi Guarda quanta roba possiamo prendere E le altre formiche si arrangiano Ma come si arrangiano? È il mio turno No 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 volevo fare una cosa prima Guarda Vai Workers 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 Level Level Guarda le abbiamo potenziate un sacco Abbiamo un sacco di formichine nuove Ok vuoi vedere adesso la vera potenza Vai facci vedere la vera potenza Allora io farei così Rebby guarda Metterei un sacco di queste qui Ok E poi appena abbiamo una marea di smeraldi Ok Ci potenziamo un sacco Vai ci sto Vai 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 mettili tutti lì Guarda guarda tanto le formiche fanno il duro lavoro di fare il razzo Esatto loro stanno costruendo il razzo Tanto il razzo lo fanno le nostre serve formiche A che punto sono? Eh vediamo Ma manca pochissimo Ah no 183 Ci stanno mettendo un sacco Ok non ti preoccupare allora adesso noi facciamo un sacco di smeraldi Perché ci dobbiamo potenziare per il livello che arriva dopo Ok però aspetta intanto Fai un passaggio lì e con gli smeraldi Con quelli azzurri vai a comprare altre formiche Tranquilla Vai vai a comprare Tranquilla Sì 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 tranquilla tranquilla Allora formiche 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 Guarda quante Una marea Abbiamo un sacco di collaboratori Potenziamo le nostre formichine Allora abbiamo un sacco di smeraldi Vai Allora potenziamo direi 21,5 la velocità perché vanno bene No no anche le formichine Anche più potenti più formiche Ok allora abbiamo 30 smeraldi Direbbe Vai upgrade Io direi di upgradeare La capacità Il prezzo di questo La capacità Capacità e velocità Ok Oh andiamo molto più veloce Ok allora il razzo ancora non è completo Hanno quasi finito tutto qua Abbiamo quasi finito tutto quello Guarda quante robe portiamo E adesso Allora Mettili lì mettili lì Qua No di là di là di là Eh ma si sta esaurendo dobbiamo metterlo lì Rebbe Eh ma lo dobbiamo mettere lì guarda Ok tranquilli Stanno finendo gli smeraldi Guarda io li metterei qua Tranquilli Ma se ne sono altri di quelli blu No li abbiamo Eh ma no li abbiamo finiti Come no 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 li abbiamo finiti E allora perché li metti lì Dobbiamo creare gli smeraldi 50 là 50 ma potevamo potenziare Ok 50 qua Olè E ok E possiamo prendere questo Fantastico Esatto vai Ok allora Rebbe Dove andiamo adesso Io farei Che li mettiamo qua Prendiamo più formiche Sì ma dobbiamo fare Guarda quella Quante ne sta portando Quanto ne sta portando ragazzi Mano a Maria Un sacco Ok a breve Andiamo nel nuovo pianeta Dobbiamo cercare di potenziare al massimo Le nostre formiche Perché quando andremo nel nuovo pianeta Devono essere potenti Wow però ragazzi Io direi di fare una cosa adesso Creare altri smeraldini Vero Altri smeraldi Guarda sono lì Andiamoli a prendere Perché così ci potenziamo noi Esatto ma nel frattempo Dobbiamo portare quei cosi azzurri Lì per creare smeraldi Ok ci penso io Guarda Pegliamo tutti questi Veloce 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 Perché poi possiamo portarne Molti di più dopo Ok vai Adesso lascia lì E li mettiamo qua Vedi Rebbe Sono troppo bravo Bravo Ammettilo Sono bravissimo Ancora ancora Ne servono ancora 4 su 12 Per creare gli smeraldi Guarda Molly Ho preso tutti i rossi Perché tra poco È pronto questo Oh potenziati prima Potenziati Se no parte Potenziamoci Potenziamoci Potenzia di là di là upgrade Quali qua? Ok Allora passiamo più Il livello è quello Uh proviamo Prezzo E come funziona Prezzo bene Non so Secondo me aumenta qualcosa I prezzi sono più convenienti 52 ne mancano Guarda 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 Vai Rebbe Vai 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 Dobbiamo andare sul nuovo pianeta Che qui abbiamo finito le risorse Guarda quanti Ce ne sono un sacco Uh e altri smeraldi Guarda le nostre formichine Ne abbiamo Abbiamo creato un impero Molly Guarda Un impero Un impero di formiche Un impero di formiche Andiamole aiutare Perché è quasi pronto al nostro rato Hai degli smeraldi da prendere Prima di partire Prendiamo gli smeraldi Prendiamo gli smeraldi Prima di partire Vai vai Prendi Li prendiamo tutti Quelli che ci sono E potenziamo Non gliene lasciamo neanche uno Vai vediamo Vai 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 Non glieli lasciamo Ecco Perfetto Vai Vediamo Potenzia che manca poco Vai potenzia qui Vai Worker Vai di là Upgrade Vediamo c'è qualcosa No Non ne abbiamo abbastanza Non possiamo fare niente Vabbè io direi che non c'è tempo Non c'è tempo Perché la navicella sta per partire senza di noi Ok Dieci Nove Otto Sette Sei Ce la possiamo fare Vai 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 Attenzione Attenzione Sì Ok Abbiamo vinto Ok fantastico Allora ragazzi Guardate Qui C'è un nuovo pianeta Guarda quante formiche stanno uscendo di lì Ci sono delle formiche rosse rivali Ok Quelle secondo me Saranno le nostre nemiche Allora ragazzi Passiamo così Perché per questo video è tutto Se volete il secondo episodio Fatecelo sapere Perché da noi oggi è tutto E dobbiamo sconfiggere queste formiche nemiche Ciao 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 Ciao